A distanza di tre mesi tornano in aula i parenti delle vittime di Rigopiano. Lo hanno fatto mettendo agli atti una memoria a supporto del lavoro che stanno svolgendo i periti incaricati dal GUP. In questa memoria, spiegano dal comitato, la volontà non secondaria è quella di capire il contesto in cui si è consumata la tragedia. Infatti il punto 6 punta a verificare l'operatività del sistema di prevenzione rischi e di gestione dell'emergenza meteorologica, oltre alla mancata attivazione dell'ANAS. Apprendiamo sicuramente, l'invio di tre mesi è devastante per noi che attendiamo ormai da cinque anni, però abbiamo capito ed è importante questi tre mesi per loro per lavorare al meglio e confidiamo veramente nei periti. Alcuni familiari hanno riportato l'esempio della regione Marche che in quei giorni chiese mezzi all'Abruzzo per far fronte all'emergenza per sbloccare alcuni comuni colpiti dal terremoto. Quello che non ha fatto l'Abruzzo purtroppo perché non ha convocato l'ANAS e l'ANAS non ha messo in gambo, non essendo convocata, non ha messo in gambo tutte le sue attrezzature. Se queste memorie dovessero essere comunque verificate, accettate anche dal GUP, si potrebbe aprire un nuovo capitolo di questo processo rigopiano? Sì, sì, sicuramente, sicuramente, perché qui ogni istituzione si deve assumere la propria responsabilità, perché tutti non hanno fatto ciò che dovevano fare. L'udienza di stamani è servita sostanzialmente a rendere ufficiale la proroga di 90 giorni. Trenta ne aveva chiesti il procuratore Bellelli concessa agli esperti, che dunque al prossimo appello dovranno depositare le conclusioni della superperizia. Il colpo di scena, se così lo vogliamo definire, arriva dal legale di Antonio De Vico, che ha rinunciato al rito ordinario per affrontare quello abbreviato, così come avevano scelto già gli altri 29 imputati. Si tornerà ora in aula il 29 aprile alle ore 10.